Il nuovo anno inizia con una strepitosa novità. Da oggi puoi rinnovare il tuo arredamento con i saldi di Dotolo Mobili, con i prezzi più convenienti di sempre. Da noi troverai imperdibili sconti del 50, 60, 70%. Approfitta di questi veri affari con i saldi di Dotolo Mobili, su cucine, camere, divani, a prezzi introvabili. Dotolo Mobili, passo di Mirabella, Teberola Caserta, Benevento e Foggia. Aperti la domenica. Un consiglio a tutti gli sposi, approfittate dei nostri 30.000 metri quadri di saldi. Affrettati però, i saldi terminano il 31 gennaio!